L'unità insieme nella costruzione di percorsi di speranza. Siamo tutti responsabili e se esistono aziende agricole virtuose vuol dire che tutte le aziende agricole possono diventarlo, possono esserlo e se non lo sono possono diventarlo. L'impegno di tutti deve essere quello di vigilare che non stiamo. Questa è una terra di migranti, le guerre di civiltà si vincono insieme, tutti uniti perché nessuno può farcela da solo, né si può avere la presunzione e la superbia di potercela fare da soli. È per questo che come sindaco di questa città sento di dover dire e poter dire che Latina non si sotterrà all'impegno di essere in prima linea in questa battaglia, che potremo vincere, che potremo ritenere vinta soltanto se non avremo un'altra occasione per riunirci in questa piazza, trascinati da un'altra morte del lavoro. Io sono qui come sindaco di Latina comunque e ci ho messo la faccia, quindi... Ancora con l'ostra! E' gioia! E' gioia!